Buongiorno a tutti, oggi siamo con Nicola Marangon, responsabile tecnico di Penta. Buongiorno Nicola. Buongiorno Claudio. So che sei un entusiasta utilizzatore di WebRoot. Oggi ti rubiamo solo 60 secondi, vogliamo carpire alcune tue frasi puntuali. Dammi due aggettivi per definire WebRoot. Leggero e veloce. Perché WebRoot e non un qualsiasi altro antivirus tradizionale? Perché non c'è un solo modo giusto di fare bene una cosa. La cosa più bella di WebRoot, una sola? La sandbox per avviare applicazioni potenzialmente pericolose. Grazie mille Nicola, un saluto da tutta ACAB. Grazie a voi, buon lavoro.